Grazie 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 Signori e signori Per i campioni della Agon Channel We are the champions, my friend And we give our fight to the end We are the champions, we are the champions Come on We are the champions No time to lose you Cause we are the champions Of the world Thank you Che partenza bomba Wow, bravo Paolo Hai coinvolto tutto lo studio Hai fatto veramente Di show Come va? Ciao Freddy Molto simpatico Bravo Mi sei piaciuto tanto Martina, Martina Fantastico Convolgente, divertente, strabiliante, stupefacente Tutto guarda E dietro ovviamente Non dimentichiamolo Che c'è un lavoro anche faticosissimo E anche fatto di tantissimo studio Capacità tecnica a livello vocale Prova, allenamento Tutto a noi sembra così divertente E strabiliante Ma insomma c'è anche un grande lavoro La voce dal vivo I cambi Chi esprime il verdetto per Paolo? Avete deciso ragazzi? In queste semifinali Le nostre difficoltà sono aumentate Perché esprimendo un nostro gusto personale Un nostro parere personale Ci siamo resi conto Che man mano che andavamo avanti L'asticella si alzava sempre di più Quindi mi dispiace Ti toccherà ritornare in finale Ma guarda Ti hai fatto prendere un spazio Ma non si scherza così Sal Ma guarda Ma guarda